Il Vaticano ha favorito gli abusi dei preti pedofili sui minori, coprendo e di fatto nascondendo per anni il loro perato. L'atto di accusa arriva niente meno che dalle Nazioni Unite ed è contenuto in 16 pesantissime pagine lette stamattina a Ginevra dalla Presidente del Comitato dell'ONU per i diritti dei bambini, Kristen Sandberg. Il rapporto chiede alla Santa Sede un atto di trasparenza, rendere pubblici tutti gli abusi commessi dai preti pedofili con tanto di nomi, cognomi non solo dei responsabili ma anche di coloro che li hanno protetti ed hanno impedito che venissero giudicati da un tribunale. I numeri secondo le Nazioni Unite sono imponenti, si parla di migliaia di casi. L'ONU inoltre è intima al Vaticano di rivedere il codice di diritto canonico che considera l'abuso sui minori un atto contro la morale e non un crimine. Il rapporto tratta di fatto tutti i temi più controversi che toccano la morale e gli insegnamenti della Chiesa, dal censimento dei figli nati da sacerdoti. I bambini secondo l'ONU hanno diritto di crescere con i loro padri alla prassi di alcune associazioni religiose accusate di separare i giovani dalle loro famiglie e manipolarne le coscienze, al divieto di usare anticoncezionali, in particolare il preservativo come protezione dal contagio HIV, fino alla discriminazione degli omosessuali. Il Vaticano ha risposto alle 16 pagine delle Nazioni Unite non senza un certo imbarazzo, dichiarandosi sorpreso per la durezza. In particolare secondo Monsignor Silvano Maria Tommasi, osservatore permanente della Santa Sede a Ginevra, il documento sembra avere un taglio ideologico sui capitoli che riguardano i diritti degli omosessuali e sull'aborto e soprattutto non sembra aggiornato sugli sforzi di lavoro fatto negli ultimi anni dal Vaticano per fare chiarezza sugli abusi del clero, inclusa la recente commissione creata da Papa Bergoglio. E proprio sulla trasparenza del lavoro della nuova commissione si è soffermato dalla Spagna anche padre Lombardi, portavoce della Santa Sede, annunciando che già nei prossimi giorni verrà spiegato nei dettagli come la commissione intende operare.